Ma comunque, viva la gente! In questo spettacolo si autodefinisce qualcosa di più che un'esplosione musicale. È vero, ma cos'è non ve lo vogliamo dire. Comprate il programma e andate. Una equipe di ragazze e ragazzi di tutte le razze e religioni, uniti insieme da un contratto del riarmo morale, vanno in giro per il mondo predicando, tra una canzone e l'altra, un balletto ed un coro, una smorfia ed un sorriso, la pace tra i popoli e tra gli uomini di buona volontà. Come non crederli, quando sul palcoscenico vediamo giapponesi ed europei, coreani e pelli rossa, negri e placidivisi americani gonfi di vitamine, tutti insieme festosi per assicurarci che la vita è bella, dolce, tenere. Lo spettacolo è divertente? No, non proprio. Istruttivo? Beh, nemmeno. Curioso? Non direi. E allora? Il pubblico guarda e sorride. Che volete? Fanno tanta tenerezza questi ragazzi. Credeteci, ce la mettono proprio tutta a spiegarci che la vita non è solo materia. E本nesso è un'escalade cioè di путè, signora zu Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.